Lo studio operativo è uno spazio geometrico, né spaziale né temporale, senza punti di riferimento. Risucchiato, angusto, chiuso. Un carcere che ha una finestra, un sospiro divana rassegnazione sulla natura e l'inarrestabile ciclo. Nessun movimento nella stanza, il silenzio li soffoca a morte. Non c'è altro spazio vitale per l'universo, la fantasia. E me, che non so dove sono, spero forse da un'altra parte. L'esterno è come l'orizzonte, il nulla, uno zero che non esiste. Degradata la terra, il cielo, l'universo, tutto sta per finire in valia della morte. Puzza di cadavere, approda alla fine.